Gossip Amici 17, Daniele cambia squadra per amore, biondo nei bianchi L'amore trionfa ad cancelletto Amici 17, dopo la bufera nata sul web in seguito alla divisione di tutte le coppie nate in questa edizione da parte della produzione, ci ha pensato un allievo a rimettere tutto al suo posto. Daniele Rommelli, ballerino della squadra bianca, ha chiesto di poter cambiare casacca perché non riesce a vivere al meglio questa esperienza senza una persona speciale, la fidanzata Lauren. I profili social del talent show, in queste ore hanno fatto sapere che la richiesta del danzatore è stata accettata e che è biondo l'allievo che prenderà il suo posto, il cancelletto gossip informa che, in questo modo, anche il rapper romano ha potuto riabbracciare la compagna Emma. Daniele Spiazza. Voglio cambiare squadra per stare con Lauren soltanto un paio di settimane fa, ci trovavamo a raccontare della strana decisione della produzione di Amici di separare tutte le coppie nate nella scuola dall'inizio dell'anno. Oggi, a distanza di pochi giorni dalla prima puntata del serale, è successa una cosa che ha cambiato il destino di tutti gli innamorati di questa edizione del talent. Sui profili social della trasmissione, dunque, è apparso poche ore fa un video nel quale Daniele Rommelli, ballerino dei Bianchi, chiedeva di poter cambiare squadra. Nel filmato che sta facendo il giro del web, il giovane spiega di sentire troppo la mancanza di Lauren Celentano, la sua fidanzata, e, affinché possa continuare a vivere nel migliore del mo' di questa esperienza, ha bisogno di lei. Con i bianchi sono stato davvero bene, ma mi manca una persona. So che se non sto con lei non posso godermi al massimo questo percorso. So che c'è la possibilità di cambiare squadra ed ho deciso di sfruttarla e andare nei blu. Dato che quest'avventura l'ho iniziata con lei, voglio anche finirla con lei, queste le parole con cui il ballerino ha chiesto alla produzione di poter passare al team avversario. La storia d'amore tra Daniele e Lauren è stata, esattamente come tutte le altre, molto discreta, soltanto i più attenti fan di amici sono riusciti a capire prima di tutti che tra i due danzatori c'era qualcosa in più di un'amicizia, intuizione che ha trovato conferma nelle lacrime che Rommelli ha versato in diretta quando ha scoperto di essere stato separato al serale dalla sua dolce metà. Amici 17, Biondo ed Emma di nuovo insieme a poche ore dalla pubblicazione del video in cui Daniele chiedeva di poter cambiare squadra per amore di Lauren, sui profili social della trasmissione di Canale 5 è apparsa la risposta della produzione. La richiesta è stata accettata, Daniele passa alla squadra blu e Biondo alla squadra bianca, questo il breve comunicato con cui è stata confermata la nuova formazione dei due team del serale. Se Rommelli è approdato nei blu, potendo riabbracciare la sua fidanzata, il rapper romano è entrato a far parte dei bianchi, dove ha ritrovato la confagna Emma Muscat. Il gossip, infatti, ricorda che tutte le coppie nate nel corso l'anno scolastico erano state separate durante la formazione delle squadre, anche Carmene Filippo, che è stato eliminato nella prima puntata, mentre ora, in seguito all'accorata richiesta di Daniele, tutti i piccioncini sono di nuovo insieme. Cosa succederà nella diretta del 14 aprile? Il fatto che due allievi abbiano cambiato casacca, sposterà gli equilibri e quindi anche i giudizi dei vari organi giudicanti? Cancelletto Amici 17. Cancelletto Amici 17.